Il nostro telegiornale Nuovo record di contagi nelle Marche, oltre 700 i positivi Ascoli Piceno e la provincia con il maggior numero di casi 6 le vittime nelle ultime 24 ore in calo i pazienti in terapia intensiva Stop della regione ai nuovi ospedali unici Il Ministero della Salute concorda con Ricci, il progetto non va bloccato Anche il sindaco di Fano contrario alla scelta Non prendiamoci in giro, servono strutture di qualità Intanto la grillina Marta Ruggeri replica sulle risorse I fondi non vanno persi, dormite e sonni tranquilli La pandemia svuota i negozi, calano i clienti e il fatturato C'è ancora attesa per i contributi a fondo perduto Gli aiuti ci vogliono perché se no qui chiudiamo e non riapriamo più nessuno Abbiamo paura tutti, però noi siamo qua I carabinieri di Urbino restituiscono alla comunità di Apecchio Un dipinto trafugato 50 anni fa dalla chiesa di Santa Maria della Cella Donata dall'ASET una nuova spazzatrice meccanica Sarà destinata alla pulizia dell'area del Codma di Rosciano Afano Buonasera e benvenuti ad una nuova edizione di Occhio alla Notizia Apriamo il nostro telegiornale con l'aggiornamento sul coronavirus nelle marche Sono sei decessi registrati nelle ultime 24 ore Si tratta di due uomini e quattro donne di età compresa tra 68 e 90 anni Tutti con patologie pregresse Tra le vittime c'è anche un novantenne di Pesaro Nell'ultima giornata è stato rilevato un nuovo record di contagi Sono 702 positivi su oltre 1500 tamponi eseguiti nel percorso nuove diagnosi Il numero più alto mai raggiunto dall'inizio dell'emergenza sanitaria Il Servizio Sanità della Regione ha comunicato che è Ascoli Piceno La provincia con il maggior numero di casi 182 Seguono quelle di Ancona 177, Macerata 154, Pesaro Urbino 86, Fermo 82 E poi altri 21 casi di persone provenienti da fuori regione I ricoveri sono 610, 10 in più rispetto a ieri Ma aumentano i pazienti nei reparti non intensivi In diminuzione invece si è degenti in terapia intensiva Che passano da 75 a 74 Sia quelli in semi intensiva Che calano di 22 unità Arrivando ad un totale di 127 E adesso torniamo a parlare di ospedali unici Perché dopo lo stop arrivato dalla Regione Oggi a dire la sua è il Sindaco di Fano Massimo Seri Che ha chiesto un incontro ad Acquaroli Non prendiamoci in giro, ha detto il Sindaco Abbiamo bisogno di strutture di qualità Continua il dibattito nelle marche sul sistema sanitario Dopo le battaglie, i confronti e le numerose proteste Durate decenni L'altra sera il Consiglio regionale ha bloccato I progetti dei nuovi ospedali Con il voto unanime della maggioranza e dei 5 Stelle È arrivato lo stop definitivo Anche per quello che sarebbe dovuto sorgere a Muraglia di Pesaro Ieri il Sindaco Matteo Ricci ha annunciato battaglia Oggi invece a intervenire il primo cittadino di Fano Massimo Seri che ha già chiesto un incontro Al Presidente Acquaroli e all'Assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini Intanto il Consiglio regionale non è che abbia preso decisioni Ha solo preso tempo Allora sulla sanità è ora di non prendersi in giro E di chiamare le cose per nome e cognome per quel che sono Perché a tutt'oggi non è che c'è stato un provvedimento Di sospensione del project financing Ma continuano a parlare di nuovo ospedale E nuovo ospedale significa il progetto esistente Oggi non si può più andare avanti così in questa situazione E lo stanno gridando da mesi, da anni Tutti gli operatori che lavorano nelle due strutture Allora se questo è il percorso Il nuovo ospedale deve essere fatto Altrimenti prosegue il sindaco Bisogna avere il coraggio di dire Se i cambi al piano sanitario Non si parla più di nuovo ospedale Marche Nord E si ritorna ai due presidi Ma noi abbiamo bisogno di strutture di qualità Con professionisti e tecnologie avanzate Non dobbiamo svuotare un territorio Qui c'è anche un protocollo Che questa città ha firmato Che prevedeva la permanenza del Santa Croce E questo ho sentito che è confermato Lo mantengono, lo hanno gridato Mi hanno aggredito in tante occasioni Politicamente parlando ovviamente Ma c'è anche una nuova struttura ospedaliera Che era prevista a chiaruccia Ecco, io non vorrei che queste cose si perdessero Nell'interesse della città Nell'interesse del servizio Se la regione ha avuto un cambiamento Alle ultime elezioni E la sanità ha giocato un ruolo importante Ha detto il primo cittadino E il centro-sinistra ha grosse responsabilità Io sono sempre stato contrario Ha ricordato alla realizzazione Dell'ospedale di Muraglia Tutt'oggi lo reputo un errore E chi sta dall'altra parte Oggi chi ha la responsabilità della regione E su questa cosa ha sempre criticato Questa scelta Allora abbia il coraggio di dire Facciamolo nel sito migliore Che quello di Chiaruccia Ma penso che questo non avranno Nella forza, nella capacità di farlo Io auguro che non si vada a svuotare Anche le conquiste ultime che abbiamo fatto Per la nostra città Per il sistema sanitario complessivo Infine, Serie ha detto la sua Sul destino dei fondi Che si volevano destinare Al nuovo ospedale unico di Fano e Pesaro Se si perdono risorse così importanti Per il nostro territorio Non è solo per la regione Proprio per il nostro territorio 105 milioni già destinati dal Cipe Quindi quello è un rischio reale Poi se ne assumerebbero tutte le responsabilità Per quello sarebbe una grande perdita Per il nostro territorio E 105 milioni di euro Non andranno perduti Ma saranno destinati Agli ospedali esistenti A dichiararlo È la consigliera regionale Del Movimento 5 Stelle Marta Ruggeri Ruggeri, questi fondi andranno persi? Io non credo proprio Penso che gli esponenti di centrosinistra Che in queste ore si stanno agitando E neanche poco Cioè parlo dell'ex presidente Di regione Ceriscioli E due sindaci di Fano e di Pesaro Possano dormire sogni tranquilli Perché non penso proprio Che sia la volontà di questa maggioranza Far perdere dei soldi Che però come avevo detto In campagna elettorale Non andavano destinati tutti su Pesaro Ma erano stati stanziati Per tutta la regione Perché i primi 105 milioni di euro Che erano stati stanziati dal Cipe Dovevano servire per l'ammodernamento Tecnologico per l'antisismica E di tutte le strutture esistenti Della regione E poi invece per quanto riguarda Gli altri 16 milioni di euro Dovevano essere utilizzati Per l'emergenza Covid Quindi in modo forzoso Questi soldi sono stati destinati Dal PD Tutti per l'accensione Del project financing Per la parte pubblica Quindi naturalmente Adesso tutte le procedure Sono sospese E quindi decade Questo dopo decenni Questo progetto Di accentrare Costi letto Tutti in un'unica struttura Io adesso non voglio gridare Vittoria Perché lo farò magari Quando ci sarà Veramente una delibera Firmata dalla Giunta Ma per il momento Sono abbastanza soddisfatta Perché finalmente C'è qualcuno Che parla il nostro stesso linguaggio Che può prendere le decisioni E quindi nel giro di una seduta Insomma sono state cancellate Tante chiacchiere Portate avanti per decenni Quindi lei in questo Ha appoggiato la maggioranza? Naturalmente Abbiamo appoggiato la maggioranza Votando la loro risoluzione Presto ne presenteremo una A nostra firma E naturalmente Nel mio ruolo di opposizione Vigilerò affinché questi soldi Vengano veramente utilizzati Per i motivi Per cui erano stati destinati Al nostro territorio Non si può affermare Un progetto in stato molto avanzato Come quello del nuovo ospedale Tra Pesore e Fano E' questa la linea Della sottosegretaria Al Ministero della Salute Sandra Zampa In rappresentanza Del Ministro Speranza Che oggi pomeriggio a Roma Ha incontrato Il Sindaco Matteo Ricci Sul progetto Spiega la Zampa Lo Stato ha investito 105 milioni di euro Attraverso i fondi Cipe Il Comitato interministeriale Per la programmazione economica Il Governo Vuole portare avanti Investimenti Per rafforzare In contemporanea Le strutture Per la sanità territoriale E gli ospedali di eccellenza Di ogni territorio Per questo motivo Il Ministero della Salute Farà di tutto Per portare avanti Il progetto E convocherà Nei prossimi giorni Un incontro tecnico E dall'emergenza sanitaria La crisi economica Le ultime restrizioni Del Governo Hanno provocato Un calo di clienti E di fatturato Preoccupati esercenti E ristoratori Che chiedono allo Stato Aiuti e risorse Angelica Panzieri Se lo aspettavano Ma forse non così rapidamente I commercianti di Pesaro Lo temevano già Il contraccolpo causato Dalla chiusura Alle 18 di bar e ristoranti Simbolo del fatto Che se entra in sofferenza Un comparto economico strategico Come quello del food Inevitabilmente Questo si trascina dietro Tutti gli altri E così è stato Fin da subito Il calo generalizzato Degli acquisti Nei negozi Si fa sempre più sentire E nelle ultime due settimane Molti commercianti Non hanno praticamente lavorato In centro a Pesaro Continuano a tenere aperto Tutti o quasi Sette giorni su sette Ma per tanti di questi A fine giornata Gli scontrini Sono davvero irrisori Alle 18 Quando nella città Si spengono Le insegne di ristoranti Bar e pizzerie Le strade si svuotano E di conseguenza Per i negozi Non c'è più nulla da fare E dei contributi A fondo perduto Per imprese E attività commerciali Che dovrebbero essere erogati Direttamente Sul conto corrente Dell'esercente Da parte dell'Agenzia Delle entrate Sottolineano i commercianti Non c'è ancora traccia Obiettivamente Anche a nome Penso un po' di tutti Si spera che non sia così In quanto I danni Che ci sono stati Ancora Ne paghiamo le conseguenze Ad ogni modo Siamo qui Per affrontare Questo momento Siamo fiduciosi Per il weekend E ci stiamo già preparando Con importanti sconti Per aspettare I nostri clienti Avete già ricevuto Contributi Dallo Stato Anche in vista Di quello che è stato Annunciato Di recente Dal governo Ma sì Ho avuto I famosi 600 euro Nel periodo Di marzo Aprile Maggio E il contributo E dalla parte Della agenzia Delle entrate Comunque Risale al periodo Di giugno Poi Al momento Non ho più ricevuto Niente Anche se a noi Non ci fanno chiudere Alle 6 Noi praticamente Apriamo le porte Accendiamo le luci Per nessuno Noi comunque Continuiamo A tenere aperti Per qualsiasi cosa Siamo Organizzatissimi Mascherine Detergenti Infetti Tutto quello Che c'è da Che serve Noi abbiamo Noi come tutti gli altri Siamo sempre pronti Ragazzi Noi aspettiamo Che la gente Ci venga a trovare Speriamo bene Negli aiuti Dallo Stato Anche se ci fanno Richiudere Gli aiuti Ci vogliono Perché se no Qui chiudiamo E non riapriamo più nessuno Abbiamo paura a tutti Mezza alla settimana Sì C'è molta Molta meno gente Di settembre Ottobre Si sta per avvicinare Anche il Natale Quindi quest'anno Le previsioni Sono forse Un po' più amare Rispetto a quelle Dello scorso anno A livello di movimenti È tutto Un punto di domanda Come le aziende Con le consegne Delle merci Come gli acquisti Tutto un bel punto Di domanda Speriamo Una bella ripresa Per Natale Però novembre È sempre un mese Particolare Nonostante il Covid Per tutti Avete già ricevuto Contributi Dallo Stato Per lo meno Io si li ho avuti A marzo ed aprile Famosi 600 euro Noi invece In questo momento Siamo fuori Al di fuori Dei vari contributi Che stanno dando Adesso Per il governo Alle attività Diciamo che potremmo Chiudere tranquillamente Anche noi Che potremmo andare Tranquillamente a casa Se ci fanno chiudere Adesso il 15 Coinvolge Purtroppo Potrebbe coinvolgere Anche il mese di dicembre Che per noi È vitale Spero E mi auguro Che la gente E i nostri clienti Abiano comunque Siano Superano questa cosa Però è chiaro Che il clima Non è certamente sereno Aiuti dallo Stato? Nisba Nessuno Nessun aiuto Se mai qualche spintarella Buttarci nel burrone Quello sì Ed è stato restituito Alla parrocchia Di San Martino di Apecchio L'antico dipinto Trafugato Negli anni 70 Dalla chiesa Di Santa Maria della Cella L'opera d'arte Poi era stata Sequestrata dai carabinieri Di Urbino Nella casa Di un restauratore Allora colleghiamoci Con Apecchio Dove c'è per noi Letizia Marchioni Tra l'altro Letizia Buonasera Credo che oggi Sia anche il patrono Di Apecchio Allora a te la parola Per raccontarci I dettagli Di questa operazione Della consegna Sì Buonasera Simone Buonasera A tutti i telespettatori Ci troviamo qui Davanti al santuario Del santissimo crocifisso Di Apecchio Dove ora è conservato Il dipinto San Martino A cavallo Una restituzione Ed un'inaugurazione Si può dire Che è stata Fatta Durante la funzione Che si è appena svolta E che è stata tenuta Dal vescovo Della diocesi di Fano Armando Trasarti E quindi insomma Una inaugurazione importante Proprio perché appunto Oggi è il giorno Del santo patrono Di Apecchio Che è proprio San Martino Ma scopriamo tutti i dettagli Nelle interviste Che abbiamo realizzato In precedenza Se la regia Può gentilmente Mandarli in onda Per il paese Certo È un bel recupero Perché Questo dipinto Di cui ormai Si era quasi persa La memoria È riemerso Casualmente A Urbino Presso il restauratore Castellani E ora Torna Qui A Apecchio In maniera Come dire Del tutto fortuita Anche per i cittadini Solo pochi Hanno testimoniato Che effettivamente Si trattava Di un dipinto Che ricordavano Essere nella chiesa Di Santa Maria Della Cella Una chiesa Che È un oratorio Sostanzialmente Quindi una chiesina Piccola Ecco Dove c'era Questo bel dipinto Appunto Ma la chiesa Adesso è diroccata E quindi Il dipinto È stato riposto Qui Nella parrocchiale Perché può essere Così fruito Dai Dagli Apechiesi In qualsiasi Momento Della settimana Beh Il suo valore È notevole Perché San Martino È una figura Di santo Dei primi secoli Della chiesa Nasce Praticamente Al tempo Dell'imperatore Costantino E vive un po' Tutto il quarto secolo Da un militare Tribuno militare Lui stesso Diverrà militare Sentirà il contrasto Tra l'essere cristiano Una volta convertitosi Al cristianesimo Il contrasto Tra l'essere cristiano È il dover fare Il militare Il dover essere militare Non è Il tutta carità Fin da subito Ma è il santo Che diventa Col tempo Diviene santo Col tempo Matura Questa sua santità Gradualmente Piano piano Nel tempo Qual è l'importanza Di questo ritrovamento Per la città di Apecchio E del quadro in sé Beh il quadro Ha un valore Intrinseco Perché è un'opera Di pregio Artistico Storico Culturale Il suo valore Che sta più a cuore A me come sindaco Forse è il valore Simbolico Il messaggio di San Martino Della Sua generosità Della sua sensibilità Verso il povero Verso l'ultimo Quindi in questo momento Penso che sia Importante anche questo messaggio Quindi la sua collocazione All'interno del nostro santuario Nella parrocchia Nella piazza San Martino Penso che possa essere Uno stimolo forte Concreto Per gli Apecchiesi Durante il viaggio Verso Quest'indagine Nella sua parte conclusiva È stata anche un'indagine breve E diciamo Il procedimento Per quello che riguarda La procura della Repubblica È chiuso Perché è stata richiesta L'archiviazione E siamo in attesa Del provvedimento Del giudice Però è la coda Di altre indagini Che erano sempre state Coordinate Con il nucleo Di tutelare Il patrimonio artistico Che avevano già portato Ad un importante ritrovamento E quindi sono quelle indagini Che ti permettono Di avere la soddisfazione Veramente Di recuperare cose Che sembrano essere smarrite E magari Sono anche state dimenticate Per tanti anni O per tanti decenni Come in questo caso Ecco Quindi un ritrovamento importante Ed una presenza Altrettanto importante Per Gli abitanti di Apecchio Il dipinto Torna a casa Abbiamo sentito A riguardo Anche il vescovo Armando Trasarti Se la regia Può cortesemente Inviare L'intervista Il giorno del padrono È tornato a giugno L'abbiamo messo Nel deposito Sicurezza di Curia Ma Mi era impegnato Pubblicamente A restituirlo Al luogo giusto E quindi Questa parola È stata data È stata mantenuta E spero di mantenerle Sempre Questa parola è data Perché l'arte serve Perché il pubblico Soprattutto il cittadino Possa goderne Nel territorio Solo Vai in un museo Provisoremente Oppure quando una chiesa Ti smessa Quando non c'è la tutela Altrimenti L'arte serve A coltivare Il bello A coltivare La bellezza in genere A coltivare lo spirito E anche perché no Ad aiutare il culto Religioso Ecco quindi Da Apecchio è tutto E linea allo studio Bene Grazie Letizia Noi andiamo avanti Con la cronaca Perché gli agenti Della polizia ferroviaria Hanno rintracciato Alla stazione di Ancona Tre minori Di nazionalità Albanese Di età compresa Tra i 16 e i 17 anni Che si erano allontanati Da una comunità Di Fano Dopo gli accertamenti Diritto I giovani Sono stati Riaffidati Agli operatori Della struttura Ed ora Un'operazione Delle fiamme gialle Una società Milanese Avrebbe indebitamente Compensato Creditiva Sul territorio Pesarese Facendo figurare Crediti inesistenti Di altre tre aziende Lombarde Risalenti Alla 2017 La richiesta Agli uffici finanziari È stata trasmessa Tramite uno studio Pesarese Estraneo Ai fatti Per questo È scattata La competenza Della procura Di Pesaro E del nucleo Di polizia economico Finanziare Della guardia di finanza Che ha eseguito Il sequestro Di una villetta Alecco Del valore Di circa 120 mila euro Riconducibile Al rappresentante legale Della società Che aveva chiesto La compensazione IVA Il sequestro preventivo È stato disposto Dalla GIP Di Pesaro Francesco Messina Una spazzolatrice Meccanica E 50 casacche Catarifrangenti Sono i materiali Donati da ASET SPA A due associazioni Fanesi Ha seguito per noi Questa consegna Al codma di Rosciano Filippo Pucci Giornata di consegne E donazioni Sabato scorso Da parte di ASET SPA A due importanti Associazioni Della città L'azienda fanese Ha consegnato Al CB Club Mattei Una vecchia spazzatrice Usata Per la pulizia Delle strade Di fronte Ad una rottamazione Con ulteriori spese Ci ha chiesto La protezione civile Se potevamo in qualche modo Fargliene dono E quello abbiamo fatto Oggi è la seconda consegna Perché Quando l'abbiamo consegnata A noi non era certamente In queste condizioni In quanto era Veramente Veramente Messo male Purtroppo A causa dell'uso E tutto il resto Quindi Oggi è una sorta Di rinascita Di un mezzo Che Per gli usi Che deve fare La protezione civile Più che ottimale Mentre non sarebbe Stato in nessun modo Ottimale Per l'uso Che ne avrebbe dovuto Fare Aset Prossima alla rottamazione La protezione civile Di Fano Ha deciso Di sistemarla E impiegarla Nell'uso Della pulizia Dell'area Del Codma Di Rosciano Noi Con l'aiuto Della carrozzeria Del meccanico Di un ex Dipendente Dell'Aset Che ce l'hanno Rimessa a posto Oggi La stiamo utilizzando All'interno del Codma Molto prezioso Perché l'area Qui è molto grande Per tenere pulita Ci voleva In pratica Non è una spazzatrice Che è in grado Di fare quello Che fanno le altre Cioè di lavorare 12 ore di filata Ma le sue Quando servono Oro due Ce le permette In pratica La teniamo qui All'interno Grazie ad Aset Che ci ha fatto Questo dono Per noi Molto importante Altrimenti Voi immaginate Spazzare a mano Un'area come questa Ci vogliono giorno E giorni Nel giro Di un paio d'ore Riusciamo a mantenerla Per lo meno giornalmente Un'area presentabile E pulita Infine La seconda consegna Da parte di Aset È andata All'associazione Di volontariato Puliamo Fano Che insieme al comune Ha pensato Di donare 50 casacche Che serviranno A rendere i volontari Ben riconoscibili Durante le loro giornate Di pulizia In giro per la città Le casacche Oltre che Un po' raccontare Di noi Che siamo dei volontari È anche un messaggio Proprio Nel nostro operato Anche perché Non vi nascondiamo Che da un anno e mezzo Che stiamo operando Spesso le persone Ci guardano E dicono Ma cosa stanno facendo Questi Che con i civili Con vestiti borghesi Si mettono a raccogliere Le cicche delle sigarette O la plastica per terra Dunque Oltre che essere Un gesto anche Di riconoscimento Perché qualche volta Andiamo vicino alla strada Dunque potremmo essere Anche oggetto Di rischio Di pericolo Di intralcio Dunque una visibilità Anche qualora Andassimo vicino alle strade Ma è soprattutto Per lanciare un messaggio E per dire Ecco Per rappresentare Quest'azione di volontariato Dunque un grazie ad Aset E al comune Che ci ha testato La loro vicinanza Con questa donazione Si chiama Doppiamente eccellente Ed è la campagna Di promozione Che unisce I due formaggi Dope Della regione Marche Un patrimonio Di qualità Bontà e sicurezza Che viene raccontato Con due fuoriclasse Della storia Del gusto Premiati dall'Europa Con il marchio DOP Storici formaggi Degli appennini Delle Marche Delle Emilia Romagna La casciotta D'Urbino E il formaggio Di Fossa Di Sogliano Si uniscono Per la prima volta Per una importante Operazione di tutela E di valorizzazione Agroalimentare La campagna Denominata Doppiamente eccellente Dimostra Che si possono creare Sinergie Nella promozione Dei due formaggi A denominazione Di origine protetta Questa è una campagna Che promuove Tre Valli Società cooperativa Che è la capofila Della filiera Lattiero Casearia Ed ha l'obiettivo Di dimostrare Che esistono Sinergie Tra questi due prodotti Casciotta D'Urbino E formaggio Di Fossa Di Sogliano Sono due prodotti Complementari Perché uno È la casciotta D'Urbino Ha una stagionatura Dei 15-20 giorni Quindi è morbida Ha un sapore Ancora di latte Di burro E di yogurt E invece Il formaggio Di Fossa Ha 150 giorni Di stagionatura Quindi ha Un sapore Molto più articolato L'obiettivo È quello Di far apprezzare Al consumatore La qualità certificata E la territorialità Di due dop Simbolo della gastronomia Che hanno in comune Artigianalità E antiche tradizioni Naturalità E biodiversità Di cibi sani E genuini La campagna Doppiamente A cura Dell'Agenzia Omnia Comunicazione Di Fano Prevede una pianificazione A livello regionale La Casciotta D'Urbino Ha il consorzio di tutela Ormai da 30 anni Quindi funziona E con tutela Il prodotto Anche sul livello Del commerciale Il formaggio Di Fossa Ancora non ha Un consorzio di tutela Quindi noi vogliamo Dimostrare Che si può stare insieme E poter promuovere Questi consorzio di tutela Per il formaggio Di Fossa Ed è terminato Il maxi affresco Realizzato dal pittore Mondolfese Natale Patrizzi In arte A Graacerbar Nel comune Di Terre Ruveresche È stato realizzato Con una tecnica Inedita Creata dall'artista È lungo circa 100 metri Alto 3 L'opera Che ritrae La battaglia del Metauro Può essere ammirata Percorrendo Il canale Nei pressi Del fiume Metauro Che conduce Alla centrale Di Enel Green Power Proprio sul lungomuro Che delimita le opere idrauliche Dell'impianto idroelettrico Che si concretizza L'iniziativa Nata dalla collaborazione Tra l'azienda elettrica Che ha messo a disposizione Il manufatto E il comune Di Terre Ruveresche Che ha dato il via Al progetto Denominato Terre Dipinte Volto a riqualificare Valorizzare Gli angoli nascosti Del territorio E vi annuncio Che lunedì sera Alle ore 21 Il sindaco di Fano Massimo Seri Sarà nei nostri studi Per una nuova puntata Di Primo Cittadino In questo cartello Come sempre Vi lasciamo tutti i numeri Di telefono Per intervenire in diretta Tra poco invece Andrà in onda Un approfondimento Dedicato al nuovo singolo Della 14enne fanese Asia Antonietti Io vi ringrazio Per l'attenzione E vi auguro Una buona serata Arrivederci a domani